SIGLA Per poter venire a qualcuno le dico come vuoiπο intendere? Io vi ho messo le gnocchette e manca perché se usano così a casa non lo sa a casa va bene però è molto buono se uno si sa, se uno non lo sa Io sono buono anche ogni 12 giorni, una volta a casa, non mi ricordo che vuoi avere. E se ne ero qualcuno, chi c'è? Non c'è qualcuno, non lo conosco, io non lo conosco, non lo conosco, non lo conosco. Questo qua è scemo io, ma non mi hanno amato, perché io ero avuto questo. No, non mi ha portato apposta. E' un telefono, mi chiedeva che esplosione è stato avuto. Ma se te non ho fanni, mi ha dato che sono non ho fanni, non mi hanno amato, voi stare insomma. Se non mi ha fatto, non mi ha fatto, non mi ha fatto, se non mi ha fatto, se non mi ha fatto. E' un'altra parte, non mi ha fatto, non mi ha fatto, se non mi ha fatto.